Qui ti vediamo l'opera sul tuo ultimo lavoro, che è un tuo autoritratto, chiaramente, giusto? Sì, sì. È un mio autoritratto con un mare tropicale e poi verranno inserite delle nuvole e poi chiaramente questa cosa che state vedendo è la bozzo del quadro. Certo. È un mio profilo, è un quadro un po' particolare perché sto giocando molto col colore. Sì, vedo. E mi piace molto lavorare con il colore, è una cosa molto emozionale, insomma. Sì, sì. Molto patafisico. Ma anche patafisico e anche no, è anche patafisico e anche patametafisico forse. Sì, sì. Molto bello. Ce lo farai vedere quando è finito. Certo. Grazie. 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 Grazie.